sono due le considerazioni che vorrei fare su questa mostra la prima immaginate di voler conoscere un parco un parco pubblico con erme monumenti alberi di interesse storico e vogliate soltanto cercare di capire come è fatto per farvene un'idea la mostra nel suo percorso breve consente proprio questo di conoscere la storia del confine orientale nel suo insieme ma la mostra vi consente anche di fare un percorso diverso di approfondimento potete fermarvi davanti a uno di quegli alberi di quei monumenti di quelle erme approfondire mettere in relazione tra loro gli eventi e in questo modo la vostra conoscenza risulterà decisamente approfondita la seconda osservazione riguarda il titolo nel titolo si fa riferimento ai conflitti e alla riconciliazione è proprio attraverso la conoscenza storica reciproca la storia di tutte le componenti di queste terre che è possibile costruire percorsi di riconciliazione nel quattro biampio dell'europa che unisce tutti i popoli che in queste terre abitano da secoli